Antonio Feliz da Costa, arrivi qui molto motivato dopo la gara d'Argentina nonostante il risultato finale, cosa ci puoi dire? Vediamo, sembra un po' difficile per me di dirvi quanto competitivi saremo questa gara, che dipende sempre un po' della pista, delle temperature, di tutto. Allora noi cerchiamo di fare il nostro meglio, cerchiamo di usare della meglio forma possibile quello che abbiamo. Abbiamo la macchina ancora nel pacchetto della prima sessione di Formula E, allora in alcuni punti non siamo così tanti competitivi come gli altri, però cerchiamo di fare il meglio con quello che abbiamo e andare avanti e fare un buon risultato. Come influisce psicologicamente in un pilota correre? A casa del compagno di squadra che è il primo rivale. In Messico che sappiamo c'è una tifoseria molto forte per l'automobilismo e dove praticamente tutti ti ferranno per il tuo compagno di squadra, che come di solito è il primo rivale. No, in questo momento cerchiamo di lavorare insieme. Non ci sono stati tanti quelli compagni di squadra che possono dire questo, ma Salvador è un più bravo, è veloce, come persona è molto bravo e ci riesce a lavorare insieme e andare avanti insieme. Ti dico, se lui vince e io finisco secondo, va bene così, non è un problema. Sono qui per vincere, ma alla fine siamo una squadra e dobbiamo fare il meglio possibile con quello che abbiamo e il meglio modo di fare questo è lavorare insieme, perché sicuramente se lui scopre qualcosa è buono anche per me, però se lavoriamo insieme è una cosa buona. Grazie, ciao. Grazie, ciao.